Sì, i soci si sono riuniti per discutere sul piano annuale delle opere pubbliche, anche se diciamo ancora è prematuro, però vogliamo intervenire nel dibattito e visto che i finanziamenti ce ne sono pochi, i soldi ce ne sono pochi, abbiamo fatto degli piccoli interventi che potrebbero essere utili alla città, in particolare al centro storico. Tant'è vero che parliamo dei gabinetti pubblici e quindi questa amministrazione abbiamo saputo qual è l'intenzione di riattivarli, la biblioteca comunale che era diciamo fatiscente, tant'è vero che è stata spostata e il palazzaccio, il palazzaccio della Piazza della Repubblica che potrebbe riaprirsi e quindi per la piazza, per il turismo, per le vie del centro storico sarebbe una cosa opportuna. Con una minima spesa. Ti avete individuato nella somma di? 900.000 euro per tutte e tre interventi, poi possiamo anche sbagliare, però sono somme che possono essere spese e avere tre siti importanti. Grazie. 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 Grazie.